Siamo di nuovo chiusi a casa, ma non vi preoccupate, io sono Alessandro, il vostro trainer, oggi insieme andiamo a fare un super workout total body, lavoriamo tutti i gruppi muscolari, quello che ci serve per lavorare oggi sono una sedia, due manubri, ok? Se non abbiamo i pesi a casa possiamo usare benissimo due bottiglie d'acqua, partiamo con un riscaldamento, con una fase cardio e poi ci concentriamo a lavorare tutti i gruppi muscolari, questo workout si chiama Beach Body Workout, quindi siamo pronti per iniziare? Io sono pronto, tu sei pronto? 3, 2, 1, let's go! Ancora antes sei iscritto al canale YouTube? Scusa, cosa aspetti? Sul mio canale trovi tantissimi workout ogni settimana, consigli sul fitness e come migliorare i tuoi allenamenti. Dai, andiamo a allenarci, let's go! Eccoci, siamo pronti per iniziare il nostro workout, partiamo subito con un riscaldamento per far alzare la temperatura, vai con il nostro skip di partenza, pia, sulle ginocchia, se è troppo intenso puoi portare sulle ginocchia lentamente, vai, andiamo, 20 secondi. Questo workout è adatto a tutti perché ti farò vedere gli esercizi in vari livelli, versioni facili e più difficili. Vai, 10 secondi. Sulle ginocchia, forza, 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 3, 2, 1, stop! Recupero respiro, andiamo a fare un jumping jack, cerchiamo di aprire bene le braccia. Via, siamo partiti, let's go! Forza, forza, sulle braccia, apri e chiudo. Dopo ci servirà una sedia e una coppia di manubri. Se non è manubri possiamo usare benissimo delle bottiglie d'acqua. 3, 2, 1, stop! Respiro. Adesso andiamo a fare una corsa calciata. Andiamo a toccare i talloni. 3, 2, 1, vai, siamo partiti! Su, 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 su. Vai! Tocco! Andiamo, andiamo! Via, 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 via! Forza, forza, forza! 10 secondi adesso 3 2 1 stop respiro reguvero si parte con i nostri addominali partiamo con un crunch un bel respiro e saliamo in tre tempi 3, 2, 1 andiamo a fare un crunch con una salita in tre tempi vi faccio vedere subito com'è l'esecuzione corretta così non potete sbagliare testa appoggiata stacco le spalle 1, 2 e 3 e riscendo pronti per partire vai siamo partiti via 1, 2, 3 riscendo giù vai 1, 2, 3 riscendo giù forza ancora 1, 2, 3 ritorno giù vai un bel respiro 1, 2, 3 torno giù ancora vai 1, 2, 3 riallungo respiro forza 1, 2, 3 vai salgo su andiamo andiamo forza 1, 2, 3 via 20 secondi vai 1, 2, 3 forza ancora vai 1, 2, 3 stacco le spalle mancano 10 secondi vai 1, 2, 3 forza 3, 2, 1 1, 2, 3 stop recumero un bel respiro adesso partiamo con un plank sui gomiti siamo pronti per iniziare 3, 2, 1 vai siamo partiti via stacchiamo uniamo i piedi il peso lo portiamo poco poco in avanti forza forza respiriamo la cosa importante è che ci dobbiamo concentrare sulla respirazione forza respiro vai 10 secondi ancora 3, 2 1 stop respiro recupero adesso cosa andiamo a fare andiamo a fare un crunch con le gambe su e andiamo a fare un battito di mani all'interno delle gambe ok respiriamo partiamo con il prossimo vai siamo partiti sui piedi braccia aperte e vai questo faccio un clap poggio sempre la testa a terra questo è molto importante per non sforzare la cervicale vai rilassiamo sempre i trapezi e i muscoli del collo su forza andiamo via 30 secondi vai forza andiamo andiamo 20 secondi prossimo esercizio andiamo in plank laterale vai 10 secondi da adesso vai adesso più veloci lo so che ti viene di scendere giù ma saliamo 3, 2, 1 stop un bel respiro recupero adesso andiamo a forza un bel plank laterale schiena dritta e corpo allineato 3, 2, 1 facciamo la mano a terra stacchiamo sui glutei e respiro concentriamoci sulla respirazione forza forza vai mancano 10 secondi e cambiamo lato vai 4 3 2 1 stop respiro cambio lato e via salgo su vai andiamo andiamo così respiriamo 15 secondi vai vai su sempre cerchiamo di stare dritti con la testa 4 3 2 1 e stop giù premuvero non vi preoccupate perché gli addominali li facciamo sia al centro della lezione che a fine lezione quindi adesso partiamo con il nostro workout vi spiego il primo esercizio che andiamo a fare allora partiamo con un lavoro per i principiti quindi prendiamo la nostra sedia prendiamo sedia la facciamo contro il muro ok così non si muove e ci andiamo a fare il bench tips i nostri principiti sulla sedia cerchiamo di stare dritti con il petto in fuori lavoriamo a 30 secondi se sei molto allenato cerca di andare veloce se sei poco allenato prendi i tuoi tempi 3 2 1 vai manigoggiate e via scendo vai giù con i principiti se sei anche molto strong puoi tirare su un piede vai forza forza andiamo siamo partiti questo è un ottimo esercizio da fare a casa per andare a migliorare i principiti tonificazione anche a livello di forza 3 2 1 stop recupero sciolgo le braccia adesso andiamo a fare il secondo round respiriamo e si parte con il secondo round se senti un po' fastidio a colsi puoi riscaldarti i colsi facendo questo esercizio di riscaldamento vai siamo partiti via secondo round di bench dips vai scendo salgo su forza andiamo via 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 concentrati petto in fuori vai ancora ancora giù e salgo giù e salgo mancano 10 secondi da adesso forza 3 2 1 stop recupero respiro respiro e andiamo con la terza serie 3 numero fortunato anche quindi andiamo a fare 3 sei pronto? un bel respiro sciogli le braccia e vai let's go si parte questa è l'ultima e poi andiamo a un nuovo esercizio a fare forza giù e salgo su via ancora ancora 20 secondi non si molla via dai 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 10 secondi forza forza 4 3 2 1 stop respiro recupero e sciolgo le braccia adesso andiamo a alternare un esercizio per la parte sopra ma anche un esercizio per la parte sotto andiamo a fare un lavoro per gambe e glutei perché è importante da qui partiamo in squat gambe divaricate scendo e squat una volta che sono scese squat vado a aprire lateralmente rimanendo in isometria e ritorno su ritorno su riscendo e squat e riavro lateralmente rimanendo su questo è l'esercizio che andiamo a fare ok sei pronto dai partiamo via posizione di squat scendo isometria apro apro e vengo su di nuovo scendo squat apro apro e vengo su respiro vai giù apro apro e vengo su 8 secondi giù apro apro e vengo su sciolgo le gambe primo round benissimo se lo senti poco cerca di farlo più veloce ok con più intensità vediamo un goccio e partiamo con la seconda serie io sono pronto vai si parte gambe di valigate jam squat apro 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 e vengo su vai giù apro 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 su di nuovo vai scendo apro apro vengo su 8 secondi giù apro apro e vengo su respiriamo sciogliamo bene le gambe e si parte con l'ultima serie siamo pronti siamo pronti siamo pronti forza via go partiamo schiena dritta e giù scendo apro apro vengo su respiro giù apro apro e su si sente scendo apro apro su 8 secondi giù apro 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 stop respiro recuperiamo stoppiamo e adesso torniamo a lavorare dalla parte sopra up quindi manubri in mano vi faccio il prossimo esercizio adesso prendiamo i manubri ruotiamo i manubri così e andiamo a fare un bicipite stringo i gomiti e spingo verso l'alto ritorno e riscendo ok quindi andiamo a fare i bicipiti e spalle insieme un esercizio molto funzionale per i bicipiti e spalle braccia ok ruotiamo da qui uno chiudo e su torno scendo chiudo e su pronti per partire la cosa importante è che quando stendete le braccia le portate allineate con la testa ok un bel estivo e si parti via siamo partiti vai uno due tre scendo giù forza uno due tre scendo giù vai ruoto uno due tre vai e giù ancora uno due tre vai giù vai uno due tre vai e giù respiro prima serie l'abbiamo fatta una grande respiriamo se sentite poco il lavoro sui visibili cerchete di andare più veloci ma non vi scordate di portare sempre il gomito qui avanti non vuoi portare il vetrano se no si attiva la spalla vai seconda serie e uno chiudo spingo a presa neutra torno giù vai ancora uno chiudo spingo a presa neutra torno giù vai uno chiudo su vai 10 secondi non si molla uno chiudo su vai e su stop recuperiamo respiriamo andiamo a fare la terza e ultima serie allora se non sei iscritto al mio canale di youtube ti invito a iscriverti perché ogni settimana usciranno un sacco di contenuti sul fitness e sull'allenamento quindi iscriviti vai partiamo con l'ultima serie via go uno chiudo su torno vai 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 ancora uno chiudo su torno vai chiudo su e stop, ottimo ottimo, recuperiamo, restiamo, passiamo al prossimo esercizio, allora nel prossimo esercizio vi faccio vedere due varianti, la variante più difficile è questa, facciamo un pistols con una gamba sola e ci tiriamo su, se non ti senti sicuro o sicura di poterlo fare, fai benissimo questo, uno squat con tutti i tuoi piedi, poggiando i glutei sulla sedia, ok, se invece ti senti strong, andiamo a fare un pistols con un piede solo, prima una gamba e poi l'altra, lo andiamo ad alternare, ok ragazzi, pronti? Lavoriamo con 30 secondi di lavoro, 3, 2, 1, vai, siamo partiti, quindi scegli quale lezione fare, forza, ancora, torno giù, via, spingo, vai, spingo, schiena dritta perché fuori, torno giù, seduto, su, salgo, torno giù, su, salgo, 3, 2, 1, stop, recuperiamo, lo andiamo a fare con l'altra gamba, cerca di non sbattere i glutei sulla sedia per non andare a schiacciare le vertebre, controlla il movimento anche nella fase di discesa, 3, 2, 1, vai, siamo partiti, via, si sale, su, e ritorno, su, e ritorno, vai, su, bravissimi, e ritorno, vai ancora, forza, forza, giù, andiamo, e su, via, 8 secondi, forza, 3, 2, 1, occhio perso l'equilibrio, può succedere, vai, e go, stop, la cosa importante è quando perdete l'equilibrio, cercate di non ruotare il ginocchio, se no ci possiamo andare a fare male al ginocchio, questo è importantissimo, respiriamo, e torniamo con i manubri in mano, vai, manubri in mano, eccoli qui, su, li prendiamo, adesso cosa facciamo, andiamo a fare un affondo in avanti, lavorando i bicipiti, però a martello, quindi riprendiamo così a presa neutra, questo è amber, è martello, allungo in avanti, e faccio un affondo, ok, portando i bicipiti tutti e due insieme, siete pronti? dai, dai, un bel respiro, andiamo a fare due davanti di affondi con i bicipiti, così andiamo a tonificare sotto e sopra, 3, 2, 1, vai, siamo partiti? via, allungo, bicipite, forza, allungo, bicipite, via, allungo, ancora, forza, forza, ancora, 3, 2, 1, via, stop, recuperiamo, un bel respiro, taglia, seconda serie, vediamo un goccetto d'acqua, non è che andiamo di fretta, se lo senti poco questo esercizio vai più veloce, aumenta il ritmo, se invece è troppo tosto, non volare, prendi i tuoi tempi, ci siamo, ci siamo, vediamo, e ripartiamo con il nostro workout, cerca di allungare bene l'affondo, 3, 2, 1, vai, siamo partiti, allungo, e bicipite, allungo, e bicipite, vai, ancora, forza, e vai, andiamo, andiamo, dopo di me ci abbiamo un esercizio pazzesco, vai, giù, allungo, forza, 3, 2, 1, stop, respiriamo, ci manubri, adesso non ci servono più, torniamo giù, con le ginocchia, e adesso, prossimo esercizio, andiamo a fare, un plank, in e out, quindi, posizione di plank, sulle braccia, però, esco, esco, torno, torno, una volta che siamo tornati, non è finito, scendo, scendo, salvo, salvo, non è difficile, allora, se non riuscire a salire e scendere, perché non siete ancora forti col tricipite, fate solo l'uscita in avanti, se sei strano, per questo, come me, via, esco, esco, torno, torno, giù, 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 su e su, e ribalco, ok? Pronti? Primo round, via, su, esco, esco, scendo, via, di nuovo, 1, 2, 3, 4, cambio, giù, forza, di nuovo, 1, 2, 3, 4, scendo, vai su, 1, 2, 3, 4, scendo, vado su, non mollo, 1, 2, 3, 4, scendo, scendo, salvo, salvo, stappa, adesso ripudiamo, respiriamo, se lo senti poco, aumenta la velocità, ragazzi, l'avete lasciato un bel like sotto il video? Lasciatelo subito adesso, perché è importantissimo per far crescere il mio piano di YouTube, e così io sono sicuro che questi workout vi stanno piacendo, vai con te, secondo, 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 via, l'ho già arrivato al terzo, no, secondo, via, scendo, vai, 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 su, su, oppa, 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 vai, 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 ancora, oppla, 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 vai, ancora, scendo, scendo, salvo, salvo, avanti, avanti, via, scendo, scendo, salvo, salvo, avanti, 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 via, 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 stop, e ci facciamo anche l'ultimo round il terzo respiriamo recuperiamo e si sente tutto tricini delle spalle e stanno lavorando dopo torniamo sotto con le gambe via siamo partiti let's go vai esco, esco, torno, torno giù, giù vai esco, esco, torno, torno scendo, scendo salgo, salgo forza via scendo, scendo, salgo, salgo forza stop ok anche questo è andato molto bene questo plank ok l'ho fatto un plank siamo usciti in avanti e scesi indietro ora torniamo sulle gambe e i glutei vi faccio vedere adesso andiamo a fare una combinata con due esercizi la colta pedino che non ci serve adesso e cosa andiamo a fare? andiamo a fare prendiamo i manubri i nostri amatissimi manubri ok andiamo a fare dei stacchi a gambe tese quindi braccia in avanti bacino retroversione scendo bene con i glutei e rilano su ok andiamo a lavorare i femorali e i glutei secondo esercizio manubri in avanti andiamo a squat e scendiamo in tre tempi quindi 1 2 3 rimango su ok quindi doppio lavoro doppia fatica dai partiamo subito metto il tempo lavoriamo con 30 secondi esercizio 10 secondi di recupero va bene? pronti per partire? 3 2 1 vai con i stacchi a gambe tese bacino retroversione vai scendo mantengo la schiena vengo su forza bacino retroversione scendo mantengo la schiena vengo su ancora 15 secondi bacino retroversione scendo mantengo la schiena vengo su vai ancora bacino retroversione scendo mantengo la schiena vengo su respiro 10 secondi sciolgo le gambe dai dai e andiamo a fare questo squat con discesa in 3 tempi via siamo partiti 1, 2, 3 e risalgo vai 1, 2, 3 risalgo via 1, 2, 3 risalgo vai 1, 2, 3 ancora vai 1, 2, 3 stop secondo round andiamo a fare il secondo round poi torniamo con gli addominali sciogliamo 3, 2, 1 vai, siamo partiti via vai, scendo e vengo su, mantenete la schiena vai, bacino retroversione scendo, scendo, scendo e vengo su 10 secondi da adesso forza bacino retroversione scendo, scendo, scendo mantengo la schiena vengo su 6 secondi 6 secondi bacino retroversione e vengo su stop scelgo le gambe se l'avete fatto bene dovete sentire qui sui femorali se non avete capito l'esercizio sul canale youtube dopo andate e scrivete il nome dell'esercizio e trovate la spiegazione sul mio canale 1, 2, 3 è importante anche farvi bene gli esercizi 1, 2, 3 anzi molto importante pronti ancora 1, 2, 3 su forza 8 secondi da adesso 1, 2, 3 e su bravi ok, ok siamo andati grandi questo lavoro mi piace veramente giù e si torna col nostro super six pack vai allora allora adesso andiamo a fare un crunching verso poi andiamo a fare un plank twist plank twist è questo vai molto importante e poi andiamo a fare un crunching verso male sotto i glutei e porto le ginocchio al tetto 30 secondi di lavoro 10 secondi di recupero vai siamo partiti spacchiamo l'addome forza vai ancora vai 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 20 secondi dai andiamo via 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 10 secondi forza ancora ancora 3, 2, 1 stop si recupera si respira vai andiamo con il nostro plank twist 3, 2, 1 vai siamo partiti forza forza 30 secondi via 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 dai ancora porta i glutei a sinistra e a destra forza 10 secondi e e ancora forza e stop riassiriamo secondo round eh pronti si sente eh questo workout spero che vi sta piacendo andiamo via via go vai 10 secondi forza vai e ancora ancora stop respiro andiamo in plank twist 3, 2, 1 vai siamo partiti forza forza vai con i glutei destra e sinistra 20 secondi andiamo andiamo 10 secondi ancora forza e 3 2 1 oh wow su in piedi non si molla ancora allora spostiamo da sedia con i manubri intanto che vi voglio dire ragazzi aggiungetemi sul mio profilo di instagram se non se non se non siamo amici su instagram ok seguitemi perché sul canale di instagram faccio un sacco di dirette anche lì una diretta che faccio spesso eppure della domenica alle 10 di mattina quindi ti aspetto per allenarti con me in realtà tutte le domeniche sì tutte le domeniche adesso ragazzi dobbiamo chiudere questo workout con qualcosa di veramente energico quindi adesso prendiamo tutte le energie che abbiamo e le mettiamo con questo tabata finale ok andiamo a fare due esercizi primo esercizio guardate bene lo conoscete tutti è questo è un barbis diverso facciamo uno switch laterale quindi giù barbis vengo su rotazione laterale ok di nuovo barbis su rotazione laterale se non sai fare bene il barbis o è troppo faticoso per te mi fai un mezzo barbis e una rotazione laterale pronti per partire siamo pronti però questo questo tabana non lo facciamo solo con questo esercizio ma questo è il secondo esercizio che andiamo a attaccare è un mountain climber quindi ginocchio al petto qui poi una volta fatto il mountain climber saliamo su ok e andiamo a fare uno squat quindi sei mountain climber salgo su sei squat pronti per partire metto il tempo e chiudiamo alla grande questo workout 3 2 1 ok si parte con il barbis facendo lo switch laterale via su veloce vai una volta che poi ci vieni ti giri lateralmente forza vai forza ancora via andiamo stop mountain climbers con squat adesso 3 2 1 via scendo vai 1 2 3 4 5 6 torno su e body squat 1 2 3 4 5 e 6 ritorno giù via 1 2 3 4 5 6 stop su in piedi recupero 6 secondi adesso intenso 3 2 1 vai bump su switch vai giù su lato vai 10 secondi non male adesso forza 3 2 1 go recuperiamo adesso è dura ma non devi nullare 3 2 1 forza forza go giù giù vai 6 1 2 3 4 5 6 vengo su vai 6 1 2 3 4 5 6 stop finito il tempo recuperiamo mangiando 4 round il cuore batte forte via via barbis go su giro vai giù su giro 10 secondi su giro 3 1 su giro stop dai 3 2 1 vai scendo go mountain climbers 1 2 3 4 5 6 vengo su vai 6 1 2 3 4 5 6 scendo vai 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 1 2 3 4 5 6 su piedi ok abbiamo finito adesso manca l'ultima coppia 3 2 1 via go e vai salgo switch via giù salgo switch vai giù salgo switch 3 2 1 stop respiro e andiamo con l'ultimo mountain climbers squat 3 2 1 vai giù vai 6 1 2 3 4 5 5 su forza 1 2 3 4 5 e 6 rimango 4 3 2 1 stop 1 complimenti 2 andiamo con gli addominali finali così possiamo veramente dire dopo oggi ci siamo allenati per la nostra prova costume vai eccoci qui schiena appoggiata respiriamo partiamo con il primo esercizio è un plank laterale andiamo incrociare ginocchio e gomito insieme tempo giusto vai si parte 1 e vado su 2 vai 3 vai 4 ancora 5 su 6 vai 7 ancora 20 secondi non vogliamo adesso vai forza forza go su ruoto su ruoto su ruoto ancora su 3 2 1 stop non avete finito sit up con torsione laterale quindi piedi poggiati vengo su e faccio la torsione laterale via go ruoto vai ancora su ruoto vai go via 30 secondi vai andiamo 20 secondi ancora ci siamo ci siamo vai 10 secondi forza forza 3 2 1 stop l'ultimo addominale e abbiamo finito facciamo gli addominale libretto un bel ispiro e ci diamo al libretto via ginocchio al petto giù 30 secondi 30 secondi via 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 go più veloci andiamo forza forza 20 secondi let's go più veloci andiamo 10 secondi adesso go 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 forza 3 2 1 via via stop recupero respiro complimenti ragazzi siamo stati veramente grandi questo workout è stato pazzesco io vi ringrazio veramente vi ringrazio tutti perché ci siamo allenati insieme e vi state allenando con i miei workout lascia adesso subito un commento sotto il video è importantissimo così io riesco a capire se questo tipo di workout vi piacciono se devo aumentare l'intensità o devo usare anche le attrezzature scrivimi un commento sotto noi ci vediamo nel prossimo video non vi lascio da soli lo sport non è che solamente servire una cosa estetica andare in palestra prima di tutto per la nostra salute è importantissimo quindi sport save the life lo sport ci migliora ok ma ci migliora anche dentro ciao ragazzi se vuoi essere seguito in maniera personalizzata non esitare a contattarmi ti lascio il mio profilo instagram dove mi puoi scrivere in direct se vuoi essere seguito da me con una scheda di allenamento personalizzata fatta apposta per raggiungere i tuoi obiettivi più velocemente ciao ragazzi ciao